I fratelli dello spazio I fratelli dello spazio attraverso Wanda a cura di Vubi Salve, sorella e fratelli umani Oggi si è presentata ai vostri occhi una giornata radiosa Il sole irradiandola risplende su tutta la terra che si riscuote e assorbe tutto il suo calore e ve ne fa dono Vi presentiamo questa bella immagine per poi usarla come un paragone in un ragionamento più ampio Vedendo il sole che irradia la terra e il vostro pianeta Pensate a quanto sia grande, immensa, la luce che irradia tutto il cosmo Come fa la vostra mente limitata a raffigurarsi la sua grandezza? Voi fratelli umani parlate di luce e di armonia ma senza rendervene conto Perché la vostra mente non arriva neanche a immaginare cosa sia Vi perdereste in un labirinto di idee Senza riuscire nemmeno lontanamente ad avvicinarvi alla realtà Il vostro tempo però passerà e vi porterà a comprendere E allora il vostro livello si innalzerà I secoli si susseguiranno ai secoli E l'evoluzione raggiungerà il punto prefissato Grazie a tutti Grazie a tutti